story time evoluzione radio ben ritrovati amici e amiche di story time nel nostro salotto radiofonico questa è radio itala 5 io sono andrea cantini e quest'oggi qui con i nostri microfoni ho il piacere di ospitare anthony pazzaglini che vado a salutare ciao anthony ciao andrea ciao a tutti come stai tutto bene benissimo bene bene quest'oggi in compagnia di anthony che è personal trainer online io sono in forma andremo a parlare di quella che è la sua appunto attività passione professione ovviamente prima di cominciare partiamo da una tua presentazione quindi raccontaci un po chi sei da dove vieni e quando comincia un po questa passione per il fitness in generale insomma ok allora intanto ho 36 anni e vengo da cattolica in provincia di rimini vuoi sapere veramente come è nata la passione per il fitness è una storia pericolosa e ho un fratello di 12 anni in più e quando ero piccolo come tutti i fratelli mi portava a correre con sé e diciamo che è successo una volta che mi ha fatto arrivare la lingua praticamente fin sotto i piedi non so se te mai presente quando vai a correre e non ne puoi più sei estremato benissimo quel giorno ho deciso che volevo diventare più allenato di lui fino a che è piano piano insomma o sei ancora insomma due anni sono ancora arrivato ok ok bene bene ecco e poi decidi ovviamente di fare il personal trainer e quindi il tuo percorso appunto brevemente qual è stato ma diciamo che sono sempre stato poi appassionato di palestra di fitness finché un giorno diciamo è iniziato questo lavoro quindi in palestra quasi per caso ed è iniziato che avevo 22 anni ok e da lì diciamo che si è evoluto finché poi ho avuto anche una mia palestra e poi diciamo nel 2020 ho fatto questa scelta di andare online ho aperto il mio brand io sono in forma esatto esatto e diciamo che è scoppiata un po' la cosa e quindi l'hai aperto nel 2020 2020 proprio sotto Covid ecco infatti hai avuto quest'idea di farlo appositamente anche per il discorso dell'online o semplicemente nasce per così in realtà è nata come esigenza per portare avanti il servizio che prima facevo in palestra con le persone che si allenavano con me poi da lì c'è stata sempre più richiesta e quindi ho deciso e poi di licenziarmi e di portare avanti questo mio progetto che mi sta dando delle grandi soddisfazioni e riesco ad aiutare molte più persone rispetto a chiara assolutamente ecco infatti raccontaci un po' quali sono i servizi che offri quindi in io sono in forma ovviamente inizialmente partita chiaramente come soltanto come personal trainer quindi lezioni online one to one con chi con persone che hanno poco tempo da dedicare a se stesse imprenditori mamme quindi insomma in generale chi veramente ha poco tempo per andare ad allenarsi in palestra praticamente la maggior parte e partito come lezioni individuali finché poi mi sono trovato che era il 2021 diciamo abbastanza saturo abbastanza pieno io essendo una persona solo sinceramente ed è stata un'idea di mia moglie quella dicendo ma perché non incomincia a fare anche dei gruppi no per chi si vuole allenare con te partita così e quindi dopo da lì si è tutto evoluto e insomma oggi ci sono diversi servizi che offro quindi ovviamente la maggior parte delle persone si rivolge a te per quale motivo sia per una questione ovviamente che non ha così del tempo anche da effettivamente prendere andare in palestra magari quant'altro è molto più semplice ma anche per una questione proprio di fatica una volta che torni a casa sei semplicemente che ne so fuori c'è il tempo brutto è freddo piove a tanti gli fa fatica prendere andare a palestra guarda Andrea ti posso dire una cosa inizialmente non ci credevo nemmeno io le persone che prima allenava in palestra ottenevano più risultati a casa e ora perché questo perché non saltano più l'allenamento e quindi giustamente ottieni più risultati perché hai più costanza esatto 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 infatti perché tante volte è quello la parolina magica la costanza è l'aver voglia di prendere determinazione prendo esco di casa vado in palestra torno perché no ci sta che effettivamente il servizio che te dai alle persone perché si possono allenare in casa e essere seguite voi perché l'importante è quello è molto stimolante ci tengo anche molto al fatto di essere presente con le persone cioè tu mi dai fiducia divento il tuo personal trainer diciamo che ti sto molto addosso nel senso che comunque ti voglio portare comunque risultato è chiaro se tu ti arrivi vinciamo in due certo e quindi diciamo che la mia diciamo uno dei miei punti forti è proprio quello di essere molto presente ecco ecco questo è importantissimo anche questo e quali sono quindi le richieste fatte più spesso appunto o comunque anche le problematiche maggiormente espresse diciamo così allora considera che la maggior parte delle persone che allenano comunque è un pubblico femminile la maggior parte perché? perché comunque le problematiche più richieste le cose più richieste sono perdere peso perdere peso, glutei sodi, le culotte, la pancia piatta però chiaramente anche l'uomo le braccia forti, la pancia piatta chiaramente negli allenamenti a casa non può diventare un bodybuilder professionista è chiaro, è chiaro però puoi avere un fisico tonico, snello infatti appunto volevo chiederti questo nei tuoi allenamenti sono previsti appunto attrezzature da comprare o un minimo? un minimo, giusto due manubri ma solitamente si usano le cose che abbiamo già a casa cioè esercizi poi al corpo libero quindi anche io personalmente ho riscoperto il nuovo modo di allenarmi e sinceramente sto meglio adesso di quando ero in palestra a farmi male per tirare su il peso esatto esatto no perché il corpo libero comunque è molto allenante è molto allenante e l'ho scoperto su questo è come quando dicevano ovviamente per esempio esempio a caso l'assica panca per fare il petto flessioni in diversi modi sono molto più efficaci no? sì è chiaro che poi ho dovuto ristudiarmi un po' i vari allenamenti per adattarli però oggi ti posso dire che sono molto soddisfatto io ma sono molto più soddisfatte le persone che poi si allenano con me ecco ecco questo è importantissimo molto importante quindi andiamo nel concreto andiamo anche a menzionare ovviamente i tuoi contatti per qualsiasi persona fosse interessata io sono in forma su instagram anche su facebook la trovate sempre io sono in forma e il sito web che io sono in forma.com come fare per quindi contattarti e abbonarsi tra virgolette? ma guarda su instagram ci sono tutti i contatti molte volte le persone mi scrivono anche in privato quindi o comunque su io su un informo.com clicchi dove vuoi trovi qualsiasi servizio e puoi essere anche già messo in contatto direttamente con me ecco benissimo benissimo per cui se siete curiosi questi sono i contatti ve li lascio anche qua sotto in descrizione ti chiedo un'ultima domanda Anthony se ovviamente in tutto questo ci sono qualche progetto futuro interessante di cui ci vuoi parlare? ma allora guarda io ho un sogno quello di diciamo ampliarmi un po' dappertutto veramente in tutto il mondo oggi se devo dirti la verità ho persone che allenano addirittura anche in Australia ecco quindi diciamo che piano piano però in realtà è quello di il mio vero sogno è quello di aiutare più persone possibile a mettersi in forma non solo sotto il piano fisico ma l'allenamento a cosa serve in realtà? si ti metti in forma fisicamente però quanto ti rilassa a fine giornata quanto stress buti via e quindi quella cosa lì non ha prezzo assolutamente sono d'accordo allenarsi fa bene alla mente e al corpo ma soprattutto anche alla mente è molto esatto esatto Anthony ti ringrazio per essere stato qua con noi per averci raccontato ovviamente la tua passione quindi io ringrazio anche voi amici di Storytime per averci seguito vi mando un saluto e vi saluta anche Anthony ciao a tutti ciao a tutti storytime evoluzione radio